Tutorial aprire e chiudere la gettoniera alberici al 05s notare la fessura in alto a sinistra inserire un giravite nella fessura visualizzare bene forzare verso sinistra possiamo notare la gettoniera si apre togliere il giravite sfilare da destra verso sinistra attenzione 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 ai due fili posti sotto si possono stuccare aprire la gettoniera in questa posizione pulire tutte le lenti pulire tutte le lenti tutte le lenti gli occhietti tutto quanto poi richiudere la gettoniera sempre attenzione ai fili a non stuccarli rinfilarla da sinistra verso destra spingere forte in quest'altra estremità questo punto qui qui alla prossima